Siamo molto felici per tutti noi, non solamente l'ambassadrice, è un giorno particolare, un giorno di gioia, di festa, perché questo capolavoro che la Garaccia è, è ristorata totalmente per la prima volta della sua storia. Questo ristoro globale è un esempio di buona cooperazione fra l'Italia e la Francia, e anche la squadra internazionale che ha fatto gli aiuti, il mecenato e tutti che hanno lavorato. Il risultato è fantastico, secondo me perfetto e vicino alla cosa che hanno voluto i fratelli Garaccia e il Farnese quando hanno fatto questo capolavoro.